bella raga oggi siamo qua in un nuovo video e oggi andiamo con un ragazzo con un hm 50 cr da enduro a farci un giro tra le corvette quindi un po l'ignoranza non manca mai niente grazie mille per i 900 iscritti cioè veramente raga non ci credo ancora che 100 iscritti e arriveremo a mille cioè io posso rimettermi a piangere quando arriveremo a mille vi giuro che c'è uno speciale che sarà veramente il top vi lascio qua un mini spoiler ok perciò preparatevi che sarà un bel speciale di gli iscritti e ora dobbiamo andare a far benzo incontriaci con questo ragazzo che ha un canale youtube se li vai a seguirlo si chiama simone perno link in descrizione e niente chiudiamo ok la moto è qua non so lui dove sia e quando arriva ci ribecchiamo ok raga ci siamo beccati con io ragazzo con l'hm no no sto registrando ma dai ma Non caccio, non faccio pure il giro Sono stronzo, mi sono fatto pure il giro Cazzo, cosa hai fatto? Mi sa che ho buccato davanti Ah buon, minchia Mi è superato così a cazzo Sì Ho dimenticato di girare Ho girato troppo prima Eh perché non capisco Ho detto ma Vogliamo andare a fare enduro o? Cavalletto Cavalletto La raga Facciamo come Follettina Piccolina Vlogghiamo Dentro il supermercato Ragazzi Si sborda Io c'ho per la mascherina rotta Perciò Ognuno fa come può Montni Ognuno fa Ognuno fa Allora ci becchiamo alla prossima Spero che lo registro Ciao Simo Ciao